Ben trovati con lo spazio a cura di Mediocalabria.net. Il fine settimana sarà saleggiato e con caldo in media, poi domenica è attesa una temporanea accentuazione della calura, ma ovviamente ne riparleremo. Venerdì 2, in genere sereno, venti di ponente moderati e mari tutti mossi, temperature in calo sia nei valori massimi che in quelli minimi in oltre i 34 gradi diurni nelle pianure più interne. Condizioni tipicamente estive anche per sabato 3 luglio, caldo in media e fresco alle ore notturne. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento al prossimo aggiornamento. Grazie per la visione!